il virus covid-19 era tra noi con noi in noi sin dall'ottobre 2019 io la notizia ve la lascio come link nel riassunto di questo video beh i virus sono sempre con noi tra noi in noi sempre sempre a parte il fatto che i virus sono nati prima di noi virus e batteri sono all'origine della vita a parte questo ma non è da escludere che il virus covid-19 fosse tra noi sin dall'ottobre 2019 come scritto in un articolo che io vi allego il riassunto di questo video va bene beh ma anche il virus HIV che mi pare sia stato scoperto nel 1980 circa era tra noi da sempre da sempre solo che è stato scoperto nel 1980 il virus HIV prova provoca quella malattia che si chiama AIDS sindrome dell'immunodeficienza acquisita e cioè era una situazione di progressivo progressivo allentamento delle difese immunitarie per cui uno nel corso degli anni si ammalava si ammalava e sino a quando a forza di ammalarsi moriva ma probabilmente questo è da millenni e millenni solo che l'umanità non sapeva che c'era il virus HIV che ti causava la AIDS sindrome di immunodeficienza acquisita ma pure per la sifilide in Europa è successo un gran clamore perché un'epidemia di sifilide si verificò quando un esercito francese dopo la scoperta delle lontane americhe un esercito francese scese in Italia e mezza Italia e poi mezza Europa fu infettata dalla lue la sifilide il morbo di venere ma chissà da quanto tempo c'era il patogeno della sifilide è solo che non era stato identificato come tale ma la malattia la si chiamava in un altro nome così vale per tutti i virus e i virus sono tra noi virus e batteri sono tra noi mi pare che i biologi dicano mi pare che i biologi dicano che dentro ciascuno ciascun umano ci siano circa due chili tra virus e batteri non c'è niente da fare anche relativamente al coronavirus vedete che io sono due o tre mesi che ne parlo i dati sono tutti contrastanti i dati sulle morti, le morti, le morti, le morti, le morti, le morti sono tutti contrastanti, tutti contrastanti i potenti virologi che sono i teologi moderni non sanno cosa dire, dicono e disdicono in continuazione ma l'unico beneficio che io vedo in questo virus covid-19 che ha causato un lockdown mondiale l'unico beneficio è che ha dato una bella lezione al popolo mondiale è una bella lezione relativamente alla produzione industriale, relativamente al disastro ecologico mi dicono che il prezzo del petrolio è crollato, è crollato ai minimi storici perché non si compra più il petrolio certo è rallentato il ritmo industriale, è rallentato l'inquinamento il pianeta gode, va bene, noi soffriamo col lockdown ma il pianeta gode e se gode il pianeta un domani staremo meglio anche noi perché si dice che non si deve segare il ramo sul quale siamo seduti, va bene cari amici il covid-19 e qua è scritto che era tra noi anche sin dall'ottobre 2019 ma forse è sempre stato tra noi sin dal tempo dei tempi ok cari amici ed ora per passare il tempo del lockdown non vi resta che leggere questa mia opera storico-mitologica va bene cari amici a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni a tutti i tanti cari amici